Alfio Mannino a Ribera della CGL per la campagna autunnale, si prevedono giorni di manifestazione in tutta Italia, la CGL si sta preparando a livello nazionale, arriva anche a Ribera per questa giornata di studio. Sì, assolutamente, perché noi abbiamo bisogno di ridare dignità al lavoro e di provare a dare le risposte che i lavoratori e i lavoratrici si attendono, è una fase difficile e complicata perché purtroppo salari, stipendi e pensioni vengono falcidiati dall'inflazione, perché alcuni servizi basilari che dovrebbero essere garantiti dalla nostra Costituzione, dall'istruzione della sanità sono fortemente messe in discussione e tutto questo ha maggior ragione in Sicilia nel mezzogiorno, autonomia differenziata dall'altro, il taglio delle risorse del PNRR, l'accentramento delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione, insomma c'è un governo che non guarda i bisogni della Sicilia del Mezzogiorno e quindi proprio per questo dentro la mobilitazione nazionale la Sicilia e il Mezzogiorno devono davvero provare a mettere in campo una grande capacità di reazione per cercare di dare una nuova prospettiva, specie alle giovani generazioni che oggi sono purtroppo costrette a scegliere tra la precarietà e quello di abbandonare questa terra e noi vorremmo invece che loro potessero coltivare qui i propri sogni e realizzare qui i propri progetti di diritto. Grazie.